Allora, si è entrato in campo dopo tanto tempo, poi insomma all'improvviso abbiamo avuto paura tutti che fosse accaduto qualcosa, ci siamo preoccupati. Che cosa è successo? È stato un fallo da gioco, lì è tutto a posto. Pensavamo una ricaduta dall'infortunio. No, no, speriamo di no. Ascolta, questa vittoria è importante perché insomma vi permette di andare con molta tranquillità a Santa Croce, Camerina. Sì, questo 4-1 noi l'abbiamo preparato tutta la settimana, abbiamo fatto quello che ci ha chiesto il mister e ora poi andiamo a Santa Croce a giocarcela come ora. Ecco, Gentile c'è, è presente. Sì, Gentile c'è, è tornato.